Ringrazio il Presidente della Repubblica, il Presidente Merito, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente della Corte Costituzionale e i suoi giudici, il Presidente del Consiglio dei Ministri, per avere onorato con la loro presenza l'Assemblea della Corte di Cassazione. Rivolgo un saluto cordiale a tutte le illustri autorità di governo, ai numerosi magistrati, avvocati, giornalisti e amici qui presenti. Esprimo innanzitutto sincera gratitudine alle donne e agli uomini che lavorano quotidianamente e silenziosamente nell'amministrazione della giustizia.